Ciao a tutti, già Diego di TecnoFan.it Quest'oggi con il Galaxy Note 3 vediamo un focus dettagliato su tutte le funzioni disponibili con la S Pen e le varie applicazioni andiamo ad estrarre la nostra penna come vedete si apre un menu che possiamo richiamarlo semplicemente avvicinando la penna al display e premendo il tastino questo nuovo menu si chiama Air Command e ci permette di fare 5 diverse operazioni andiamo a vederle tutte nel dettaglio iniziamo con Memo Rapido si apre questo piccolo memo dove noi possiamo prendere degli appunti ad esempio dobbiamo salvare un numero di telefono al volo lo andiamo a scrivere andiamo poi a selezionare collega ad azione e vedete che lui riconosce il testo a questo punto abbiamo diverse opzioni possiamo copiarlo direttamente nel telefono aggiungere un nuovo numero alla rubrica inviare un messaggio inviare una mail fare una ricerca con il browser visualizzarlo sulla mappa e aggiungerlo ad attività se noi mettiamo telefono verrà copiato direttamente nel tastierino telefonico come vedete è davvero molto preciso andiamo anche a fare una ulteriore prova mettiamo anche il nome e andiamo ad inserirlo come nuovo contatto come vedete lui salverà il nome ed il numero questa funzione è davvero molto comoda e funziona davvero molto bene perché vedete non è che ho una scrittura molto chiara comunque riconosce anche il mio simile scarabocchio andiamo a chiudere anzi vi voglio far vedere anche l'inserimento magari di un indirizzo andiamo a scrivere un indirizzo adesso ad esempio mettiamo Roma piazza di Spagna vediamo se lo riconosce colleghiamo e andiamo a selezionare mappa vedete lui farà la ricerca e voilà ecco visualizzato piazza di Spagna a Roma quindi una funzione davvero molto comoda che vedete poi viene ridotto in questo caso adesso lo andiamo a richiudere e scartiamo la nostra memo andiamo adesso a vedere una seconda funzione che si chiama Album Ritagli visualizziamo una pagina web come in questo caso la pagina di Repubblica andiamo a visualizzare un articolo magari con un'immagine riapriamo il menu Air Command e io voglio salvarmi questo mi interessa questo articolo vedete faccio un circoletto e lui cosa fa? apre nel nostro scrapbook una specie di album degli appunti dove vediamo uno screenshot con al centro la nostra immagine che abbiamo selezionato il link della pagina e in basso anche il testo di quello che abbiamo raccolto questa è una cosa davvero molto comoda perché? perché se noi poi lo salviamo possiamo andarlo poi a recuperare nell'applicazione Album Ritagli e vedete poi abbiamo anche il link perché basterà premere in alto a destra per visualizzare l'articolo che abbiamo salvato questa funzione è utilizzabile anche con i video di Youtube eccolo qua come vedete questo è un video di Youtube che io ho salvato basterà premere il centro dell'immagine per avviare il video su Youtube chiaramente poi è anche possibile visualizzarlo tramite il collegamento un'altra funzione molto comoda è la possibilità di scrivere sul display chiaramente facendo uno screenshot premiamo scrittura su schermo avete sentito che è effettuato lo screenshot della pagina e in questo caso possiamo scrivere tutto quello che ci pare possiamo selezionare la matita il penello un evidenziatore e andare a sottolineare quello che ci interessa come in questo caso io voglio mettere in evidenza l'applicazione fotocamera abbiamo poi diverse possibilità possiamo anche ritagliare la pagina magari per dare risalto a quello che ci interessa e possiamo poi infine scegliere di condividerla con tutte le nostre applicazioni questa funzione era già presente sul Note 2 e devo dire che è davvero molto comoda perché può tornare davvero utile soprattutto quando utilizziamo delle pagine web continuiamo sempre a esplorare il nuovo menu Air Command con l'applicazione S Finder S Finder è un nuovo modo di ricerca globale nel nostro smartphone come vedete qua vengono visualizzati dei tag questi qua sono dei tag dei geografici perché quando scattiamo le foto si ricorre diciamo la posizione quindi abbiamo la possibilità ad esempio di cercare le foto per posizione in questo caso io se clicco Sarzana verranno visualizzate tutte le foto con il tag Sarzana foto e video la ricerca è comunque globale abbiamo anche la possibilità di cercare scrivendo semplicemente con l'emissione della penna ad esempio io voglio oddio cosa ho fatto scusate io voglio scrivere wifi vedete riconosce wifi facciamo cerca e lui ci mostra la ricerca sul web dell'applicazione questo funziona con tutte le cose che abbiamo dentro nel nostro smartphone se non lo trova lo andrà a cercare sul web al momento io ho poche cose ma magari con l'andare dei mesi abbiamo tanti file tante foto questa ricerca risulterà davvero molto utile e interessante per abilitarla abbiamo anche la possibilità di premere il tastino in basso a sinistra e vedete rientriamo subito nell'applicazione in modo davvero molto rapido vediamo adesso l'ultima opzione chiaramente non per importanza che si chiama funzioni penna cosa serve? noi in qualsiasi pagina del nostro smartphone basterà tracciare un rettangolino per aprire poi all'interno un'applicazione ad esempio apriamo il browser internet e come vedete per magia caricherà la nostra pagina e avremo proprio la funzione completa del browser lo possiamo poi ridimensionare e viene fuori questa icona lo possiamo anche aumentare di dimensioni trascinando l'apice vedete qua e poi chiaramente lo possiamo visualizzare anche a schermo intero possiamo anche utilizzarlo nuovamente dentro al browser noi lo apriamo visualizziamo magari la calcolatrice e come vedete possiamo fare i nostri calcoli semplicemente anche navigando sul web andiamo adesso a vedere il nuovo S-NOT S-NOT è stato migliorato rispetto alla versione che avevamo utilizzato e conosciuto sul Galaxy Note 2 questa è una nota che ho aperto io per test per vedere l'anteprima delle pagine basterà trascinare in basso e vedete abbiamo questo mio bellissimo disegno ma adesso andiamo ad aprire una nuova pagina e vi voglio far vedere una funzione molto interessante che a qualcuno sicuramente potrà tornare utile ovvero la possibilità di fare dei grafici apriamo il grafico facile possiamo scegliere di fare una tabella un grafico a barre un grafico con le righe oppure un grafico a torta mettiamo il grafico attorno a torta che è sempre molto bello come vedete parte questo wizard che adesso io lo salto per creare un grafico a torta bisognerà disegnare dei semplici divisori ad esempio facciamo questo poi facciamo questo e infine facciamo questo come vedete viene formato questo grafico a torta abbiamo la possibilità poi di cambiare la percentuale semplicemente spostando oppure anche di rinominare per rinominare basterà premere il segno della penna e poi andare a riscrivere ad esempio qua ci scriviamo Nokia e come vedete se l'è preso qua ci mettiamo Samsung e così via quindi questa funzione è davvero molto utile premendo fatto questo grafico andrà a inserirsi poi nella nostra pagina lo possiamo poi ridimensionare spostare e fare davvero tutto quello che vogliamo sempre tramite questo menu in basso abbiamo la possibilità di inserire diverse cose come ad esempio un prememoria vocale le immagini un video sempre il grafico facile un'illustrazione che andrà a prendere delle clip art che sono già disponibili dentro il nostro smartphone vedete ce ne sono davvero abbastanza queste clip art poi sono regolabili le possiamo ruotare possiamo veramente fare qualsiasi cosa e possiamo poi anche gestirle nelle proprietà perché possiamo scegliere il layout la cornice lo schizzo veramente diciamo è una funzione diciamo decisamente avanzata che ci permette di gestire veramente alla grande le nostre note possiamo anche poi recuperare un qualcosa che abbiamo nel nostro album di ritagli personali che se vi ricordate l'ho utilizzato prima prendiamo questo screenshot e vedete questo viene inserito poi nella pagina per rimuovere gli oggetti basterà poi selezionarli abbiamo poi anche la possibilità di selezionare un oggetto e lo possiamo trasformare in varie funzioni un'altra cosa molto interessante è la possibilità di inserire del testo scrivendo con la tastiera oppure scrivendo anche con la penna questa funzione è davvero infinita sarete voi poi ad utilizzarla per il miglior modo in cui vi serve comunque abbiamo la possibilità davvero di fare tantissime cose come vedete qua in basso c'è la manina con il divieto perché in questo caso funziona soltanto con la S Pen quindi noi possiamo scrivere anche appoggiando la mano sul display e questo è davvero molto comodo le note poi verranno salvate nel nostro raccoglitore di note e abbiamo la possibilità di sincronizzarle online con Evernote oppure anche con il cloud di Samsung se avete avuto in precedenza il Galaxy Note 2 potete scegliere di importare le vecchie note come ad esempio in questo caso io nel mio account Samsung avevo sincronizzato le vecchie note e come vedete qua ci sono tutte le mie vecchie note quindi io basta che la seleziono importo e lui me la importa in modo davvero molto semplice e comodo un'altra funzione molto interessante dell'applicazione S-Note è la possibilità di riconoscere il testo e anche la forma degli oggetti ad esempio adesso io vado a scrivere Diego vado a premere questa nuvoletta che si chiama modalità di selezione e vado a selezionare il mio testo scelgo trasforma e vado a mettere testo come vedete in questo caso mi è stato trasformato nel testo tramite proprietà io poi posso scegliere di aumentare la larghezza l'altezza scegliere il carattere il paragrafo e così via questa funzione è utilizzabile anche se facciamo dei disegni ad esempio facciamo un cerchio come vedete non è proprio il cerchio di giotto però come per magia io lo trasformo in un cerchio di giotto e questa funzione è davvero molto interessante e anche molto semplice da utilizzare e vediamo come si comporta la S-Pen sul display come vedete quando la avviciniamo viene fuori questo cursore se non la avviciniamo in basso a destra c'è lo scorrimento delle pagine a destra a sinistra se andiamo nella galleria se la avviciniamo ci viene mostrato un'anteprima dei file come vedete se io adesso mi soffermo su un'immagine c'è il cursore che pulsa perché se noi premiamo la penna ci viene fuori questo veloce menu dove ci dà la possibilità di scegliere diverse opzioni andiamo a prendere modifica ed entriamo nella modifica dell'immagine dove noi poi possiamo scegliere di disegnare ed editare la nostra immagine proprio a piacimento in questo caso ho rovinato una bellissima foto ci scriviamo anche un bel ciao e successivamente salvarla o fare altro anche cancellarla in modo davvero molto rapido come vedete le opzioni sono davvero tantissime andiamo adesso a vedere come funziona lo scorporo delle immagini perché con il Galaxy Note 3 Samsung ha potenziato decisamente la possibilità di ritagliare le immagini andiamo a cercare adesso un'immagine da scorporare prendiamo questa una modella a caso speriamo che non vengano fuori foto un po' compromettenti ok diciamo di prendere questo bellissimo primo piano degli occhi cosa dobbiamo fare premere il tastino della nostra S Pen e selezionare l'area da ritagliare vedete lo sto facendo in modo decisamente grossolano andiamo a chiudere la nostra selezione ed ecco che ci appare questo menu con queste quattro iconcine cosa vuol dire questa è la nostra forma originale ovvero se noi poi la andiamo a salvare nel raccoglitore ci rimarrà così altrimenti abbiamo la possibilità di fare un ovale che possiamo poi anche spostare e gestire abbiamo anche un quadrato anche in questo caso lo possiamo sempre spostare e poi abbiamo il lazzo automatico ovvero viene selezionata automaticamente la foto con le cose da scorporare possiamo poi salire di aggiungere degli oggetti come ad esempio vedete se io in questo caso faccio il cerco sugli occhi verranno scorporati anche gli occhi però non mi sembra assolutamente il caso quindi lo andiamo a levare vogliamo anche scorporare questa parte qua allora ci facciamo premiamo il tastino meno ci facciamo il disegnetto e cos'altro abbiamo da scorporare anche qua magari come vedete comunque il lazzo automatico funziona già di per sé in modo davvero molto molto semplice a questo punto abbiamo finito di scorporare la nostra immagine e l'andiamo a salvare nel raccoglitore oppure la possiamo condividere con qualsiasi nostra applicazione quindi è una cosa davvero molto diretta andiamo nel raccoglitore pochi istanti e voilà ecco la nostra immagine perfettamente scorporata come avete visto è una funzione davvero molto semplice e molto utile che ci permette di fare davvero cose infinite con questo Galaxy Note 3 andiamo a cancellarla perché non si sa mai chiudiamo tutto per finire andiamo a visualizzare una nuova applicazione disponibile sul Note 3 che si chiama Sketchbook Sketchbook for Galaxy è un'applicazione dedicata a chi vuole disegnare con la penna sul display questa serve chiaramente per disegnare disegni veramente perché è buono a disegnare si possono fare veramente delle cose veramente fantastiche io non sono buono assolutamente a disegnare quindi evito di fare degli scarabocchi comunque come vedete le funzioni sono davvero molto avanzate una vera e propria tavoletta grafica dove vi potete sbizzarrire con tutti i disegni aggiungere delle pagine aggiungere dei layer e fare veramente qualsiasi cosa vedete quante opzioni ci sono per la scrittura e per il disegno come avete visto questo Galaxy Note 3 ha davvero tantissime funzioni non nego che inizialmente vi troverete magari un pochino in difficoltà nell'utilizzarle tutte però spero che con questo video vi sia stato utile e che vi abbia dato una mano nell'utilizzare al meglio il vostro smartphone un saluto da Diego ciao ciao